Avrei voluto essere lì con voi per ricordare Renzo, ma Renzo sa benissimo che nel nostro mestiere talvolta bisogna rinunciare a qualcosa, in questo caso alla mia presenza. Tutti voi avete avuto qualcosa da Renzo, qualcuno è stato riconoscente, altri si sono dimenticati, ma tutti avete raccolto qualcosa da lui, cioè avete raccolto quel fenomeno universale che fa sì che anche uno che se n'è andato continua a vivere nei suoi amici e questo è molto importante. Per Renzo il problema non esiste, di amici ne ha così tanti che vivrà in eterno. A parte questa considerazione, tutti hanno dei ricordi legati specialmente all'attività, l'ultima attività, l'ultima televisione e alle precedenti di Renzo. Io invece voglio fare un passo indietro di molti molti anni fa, quando nacque Televiella e un pomeriggio arrivarono due signori, uno era Renzo Villa e un suo amico. Vennero nella nostra sede e ci chiesero cos'era questa televisione, questa televisione via cavo, che stava per nascere ma che era già praticamente bloccata dall'intervento del Ministero. Ebbene, spieghiamo cos'era la televisione via cavo, come l'avevamo fatta, come stavamo cercando di farla sopravvivere. e insieme buttavamo giù dei progetti, tra i quali la mia presenza e quella dei miei amici, proprio a Busto Arsizio e a Varese, dove dovevano nascere due televisioni via cavo. Me lo ricordo perfettamente. Poi avvenne la cosa più brutta, cioè la chiusura da parte del Ministero. Non si poteva trasmettere. Bene, Villa ebbe un'intuizione molto intelligente, come ne ha avute molte e moltissime nella sua vita, cioè quella di non fermarsi, di aspettare, e in lui c'era molta più fede che non noi, di aspettare i tempi, che i tempi sarebbero cambiati e che anche la televisione privata, locale, potrebbe, avrebbe potuto, come poi in effetti è stato, avere il suo spazio. Bene, l'intuizione sua fu quella di far sì che al momento del collegamento tra lettere e incavo ci fosse del personale idoneo, preparato. E per un anno, mentre si attese la sentenza definitiva della liberazione della televisione, privata o libera, come vogliamo, Renzo lasciò qui dei suoi uomini, mi ricordo Negro e alcuni altri, che fecero con noi per un anno la televisione. La fecero come se fosse una cosa normale, come se andasse in onda, e in effetti andava in onda perché noi, appena passati quelli della polizia, ricollegammo i cavi e ricontinuavamo a trasmettere ugualmente. Bene, in questo anno, questi personaggi hanno raccolto dell'informazione, della professionalità che poi è servita per il grande passo che fece Villa. Il grande passo qual era? Era quello di passare da una televisione prettamente locale, come era la nostra di Telebiella, a una televisione privata, sì, ma ad ampio respiro. e ricordiamo tutti i primi tempi dove il salto fu enorme. Si passò non più da una televisioncina fatta dal parrucchiere, del quartiere o dal vinaio, ma fatta da professionisti, per dei professionisti, raccogliendo anche dei professionisti. Ha dato, cioè, un'immagine nuova, ha dato un'immagine definitiva di quella che sarebbe stata la televisione locale, privata, ma ad ampio raggio. Quella che è stata la sua televisione. Bene, io vorrei dare un saluto, senza cadere così nella nostalgia, a tutti gli amici e prima di tutti a Villa, il più grande degli amici. Ciao Villa!